L'Uni Salento, come nel corso della prima fase della pandemia da Covid-19, riapre lo sportello di supporto psicologico. Uno sportello telefonico rivolto agli studenti, alle famiglie degli studenti, ai docenti e a tutto il personale d'Ateneo. Al numero lanciato dall'Università Leccese sui propri canali web rispondono dottorandi o assegnisti di ricerca iscritti all'Ordine Professionale degli Psicologi. Il lunedì, il martedì e il giovedì, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 18, coordinati dalla professoressa Claudia Venuleo e dal professore Omar Gelo. Uno sportello di ascolto per chi volesse parlare delle proprie paure, delle preoccupazioni, della solitudine, in un momento così difficile, nel quale l'ambito sociale viene inevitabilmente ristretto per evitare la diffusione del Covid-19. Ma non è tutto. Per chi avesse bisogno invece di una vera e propria consulenza psicologica, al di là del contatto telefonico, l'Uni Salento lancia un vero e proprio servizio di psicologia, attivato presso il Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo, a tariffe agevolate per studenti, docenti e personale.